In Europa ed in America l'inflazione fa sempre più paura. Cosa faranno le banche centrali? Alzeranno i tassi di interesse o rimarranno accomodanti? Cosa fare con le azioni? Sono a comprare o da vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Allora, continuiamo con una carta verde e sono realzista sul Nasdaq. Nasdaq, insomma, abbiamo parlato anche prima, è in una fase secondo me intermedia. C'è da dire che è stato molto apprezzato dal mercato questo rialzo che è avvenuto in un contesto, insomma, drammatico, in un contesto difficile. Quindi sicuramente è da apprezzare e da notare. Questo potrebbe essere l'inizio di una continuazione realzista. Ripeto, siamo, secondo me, in una fase intermedia. Io ho una view più che altro realzista di medio termine, perché credo che questo rialzo è andato a interrompere una fase discendente che durava già da, credo, un bimestre, forse un trimestre. Quindi questo è sicuramente stato un segnale realzista. Per cui opto per un ingresso a 15.000 punti, con un stop loss a 14.600 e infine un target a 15.800. Secondo me, insomma, notando il Nasdaq con un grafico daily, il pattern che c'è stato, insomma, a fine, a inizio settimana, parlo del primo aprile, è comunque un segnale realzista molto forte. Vediamo come la candela ribassista è tornata subito a, insomma, la candela è tornata subito a rimangiarsi tutta la perdita di quella giornata. Quindi abbiamo avuto una conferma il giorno successivo, per cui questo potrebbe essere appunto il primo segnale realzista di continuazione del trend. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading. Grazie a tutti.